C'è una sfumatura della parola autostima che spesso viene sottovalutata e che a ben vedere è invece la più attinente alla sua etimologia. In genere si pensa che autostima sia semplicemente una dimensione in cui si stima il proprio valore in maniera positiva, ma appunto il significato etimologico ci dovrebbe spingere a una lettura più rigorosa, ovvero quella di sapersi valutare nei propri comportamenti, nella propria personalità e non ultimo nella qualità dei propri pensieri abituali. Autostimarsi quindi dovrebbe contemplare anche lo sforzo di stimare, pesare, valutare il proprio effetto su se stessi e sugli altri. Uno dei mantra di questo canale è la qualità della tua vita dipende dalla qualità delle tue relazioni e in queste relazioni, se mi segui da un po' sai che esistono quelle che definisco fondamentali, tra cui c'è in primis quella tra te e te, e a seguire tutte le relazioni con le persone con cui passi molto tempo. Esistono delle sfumature nei nostri comportamenti e lo ribadisco sia in quelli che adottiamo con gli altri, sia in quelli che riserviamo noi stessi, che possono rivelarsi disfunzionali e costringerci a una vita che ci tiene lontani dalla felicità. Sono Sergio, mi occupo di facilitare le relazioni da più di mezza vita, tramite percorsi di sensibilizzazione in aula e incontri individuali o di gruppo. Dopo la sigla vediamo insieme alcune abitudini e comportamenti che ci possono relegare in una gabbia non funzionale, ma dei quali spesso non ci rendiamo conto. A tra poco! Sto per elencarti con qualche commento, voce per voce, alcune dinamiche che possono sembrare normali, ma delle quali sarebbe meglio essere consapevoli, poiché la consapevolezza di dove siamo è l'unico motore per poterci spostare in direzioni migliori. Mi sono fatto una personale lista delle modalità più frequenti che incontro nelle persone che si rivolgono a me per sessione di coaching. E non è certo una lista esaustiva, poiché se dovessi contemplarle proprio tutte probabilmente servirebbe un video di qualche ora. Al primo posto metterei la dimensione egocentrica, quella che porta all'egoismo reiterato per cui il mondo ruota attorno al proprio sé e diventa difficile vedere le cose da altri punti di vista. Ti ho parlato del sano egoismo in un video precedente, perché è abbastanza normale pensare prima di tutto al proprio tornaconto per noi occidentali, ma potremmo farlo con una maggiore attenzione al fatto che anche gli altri stiano bene con noi e possano apprezzarci. Al secondo posto metterei il desiderio di voler cambiare l'altro, spesso tradotto in atteggiamenti manipolatori per portarlo ad agire in un modo diverso che possa avvantaggiarci. Capita spesso che ci si metta in coppia, ad esempio sulla base di un forte senso di appartenenza iniziale, ma che uno o a volte entrambi i partner a lungo andare non accettino l'altro per come realmente è e vogliono plasmarlo, manco fosse sul letto di procuste, per adattarlo al meglio alle proprie esigenze. Questa smania ovviamente si ritorce molto sia contro l'altro che si trova a subirla, sia verso se stessi, poiché ci si confina in una situazione di coppia non in linea con i propri desideri e ci si frega con il pensiero riuscirò a cambiarlo o a cambiarla. Ho una brutta notizia, è quasi impossibile cambiare una persona spingendola tramite pressioni o obblighi, mentre è più facile farlo attraendola verso nuovi comportamenti e facendo in modo che sia lei stessa a voler cambiare. Questo vale in ogni situazione, da quella tra un genitore e un figlio, a quella tra un partner e l'altro partner, a quella con un collaboratore o con un superiore. Al terzo posto eleggerei il vittimismo, quella dimensione che ci porta a vedere il mondo e gli eventi come dei nemici che ce l'hanno sempre con noi e ci rinchiude in una stanza che si chiama assenza di responsabilità. È una suite a 5 stelle in fondo nella quale ci salviamo sempre vestendo il ruolo della comparsa, mai quello del protagonista. Non dovresti dimenticare, se ti riconosci in questa stanza, che i carnefici esistono perché è proprio la vittima che spesso li elegge con i suoi comportamenti e diventa complice di un meccanismo perverso. Al quarto posto incontriamo l'abitudine di compiacere sempre gli altri, anche quando i loro comportamenti ledono i nostri valori irrinunciabili. Così ci trasformiamo in una sorta di zerbino per cui le nostre esigenze passano sempre in secondo piano e finiamo col dare agli altri la possibilità di approfittarsi di noi per poi lamentarci. Al quinto metterei la tendenza all'evitamento. Si declina in più aspetti della vita, ovviamente, ma è bene ricordare che quando evitiamo di fare o di dire qualcosa in fondo ci stiamo confermando l'incapacità di dirla o di farla. Succede spesso, per esempio, che a seguito di una discussione accesa o di un forte disaccordo uno dei due si chiuda come un riccio e smetta di parlare, ovvero eviti il confronto. I mutismi sono deleteri, perché da un lato sono chiare squalificazioni dell'altro e del suo pensiero, per la serie non ti parlo più perché non puoi capire. Dall'altro sono appunto conferme a noi stessi di non avere a disposizione strategie funzionali per risolvere il problema o per raggiungere l'obiettivo. Al sesto posto metterei l'incapacità di svuotare la tazza. Per farti capire cosa intendo ti racconto un breve aneddoto accaduto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando un famoso professore americano andò in Tibet per incontrare il monaco Nan In, dal quale avere informazioni sul pensiero Zen che ai tempi era arrivato anche nel mondo occidentale, gettando alcune ombre sulla visione cattolica. Il professore si approcciò all'intervista facendo un sacco di premesse ed esponendo la sua analisi sullo Zen con la spocchia di chi sa come funziona il mondo e mentre Nan In lo ascoltava iniziò a versare nella tazza dell'ospite del tè. Quando la tazza fu piena Nan In non si fermò e continuò a versare la bevanda sotto gli occhi increduli del professore che la vedeva traboccare sul tavolo e pensava tra sai sai, ma perché non si ferma? Ma che diavolo sta facendo? Quando disse al monaco di fermarsi, Nan In rispose come posso spiegarti lo Zen se prima non svuoti la tua tazza. La metafora della tazza è splendida a mio avviso per farci capire che spesso i nostri modelli della realtà, ovvero le nostre credenze derivate dalle esperienze che abbiamo vissuto o dalla loro conseguente catalogazione, ci impediscono di accogliere il nuovo e di cambiare. Svuotare la tazza quindi significa sposare l'abitudine di ascoltare anche chi ha idee differenti dalle nostre, senza trarre conclusioni affrettate che nascono semplicemente dalla pigrizia del nostro cervello e dalla sua volontà di essere conservatore. Non ti sto dicendo di svuotare la tua mente e di accogliere sempre e comunque idee diverse dalle tue, poiché la tua integrità dovrebbe essere la sentinella, oltre la quale si erige il muro dei tuoi valori irrinunciabili, sui quali devi rimanere in costante presidio. È buona cosa ascoltare diversi punti di vista, lasciando loro spazio per poterli capire, ma è deleterio ovviamente diventare una banderuola che si muove a seconda del vento altrui. Concludendo, se ti riconosci in una di queste dinamiche credo che già esserne consapevole potrebbe darti una spinta a spostarti da lì e a intraprendere un cambiamento. Ti ricordo che sul piano etimologico intraprendere nasce da intra che significa tra e il verbo latino prendere che significa scegliere. Quindi intraprendere non è altro che scegliere tra e nel nostro caso la scelta è tra il continuare a fare le stesse cose con i rischi che ne derivano e iniziare a fare cose diverse per crescere e migliorare la propria qualità della vita. Il cambiamento non è mai semplice, per questo, se non ce la fai in maniera autonoma puoi farti aiutare da figure professionali. Se i tuoi problemi non sono invalidanti puoi rivolgerti a un coach o a un counselor della tua zona. Se invece impattano fortemente sulla tua vita relazionale queste figure come sottoscritto non possono darti una mano ed è meglio rivolgerti a uno psicoterapeuta. Per ora ci fermiamo qui e magari un giorno farò una nuova puntata, ampliando quelle che ritengo essere abitudini più o meno sfavorevoli per la nostra qualità della vita. Ci rivediamo sabato prossimo, come sempre alle 11 del mattino, per la nuova puntata di Briciolo di Comunicazione. Scrivimi qui sotto i tuoi commenti, le tue domande, e sarò felice di risponderti il prima possibile. Passa una felice settimana e grazie di avermi seguito fin qui. Grazie a tutti.